buongiorno a tutti benvenuti al nostro journal club oggi torniamo a parlare di nefritte lupica in particolar modo del del trattamento e delle delle novità che abbiamo sul sul trattamento ne parliamo con la nostra collega anna dall'ospedale poli clinico di milano ci parlerà appunto dell'aurora trial e dell'utilizzo della voclosporina nel nel trattamento della nefritte lupica ti lascerei la parola anna grazie lia per la presentazione buon pomeriggio a tutti appunto in questa presentazione vi volevo fare diciamo un discorso sull'utilizzo della voclosporina in parlare sullo studio aurora 2 che è una continuazione di studio aurora 1 però prima volevo non so perché non va ok volevo iniziare il mio discorso sulla nefritte lupica la nefritte lupica è una complicanza frequente del lupus eritematoso sistemico e colpisce circa il 30 60 pazienti affetti da questa malattia con un picco di sorgenza tra i 20 e i 40 anni con la maggior frequenza nelle etnie non caucasiche ed è importante fare una diagnosi precoce per il trattamento mirato della malattia per prevenire il peggioramento della funzione renale e l'avvio della terapia sostitutiva in questa slide potete vedere lo score che si chiama Sledae che viene utilizzato per appunto fare una diagnosi di lupus e non andrei in troppi dettagli come si fa i calcoli eccetera semplicemente vi volevo vedere l'importanza del coinvolgimento renale in lupus e il fatto che la biopsia renale soprattutto nella classe terza o quarta della nefrite in associazione con anticorpi antiana positivi ci danno già una diagnosi di lupus in assenza di altro tipo di coinvolgimento e anche in assenza dei sintomi con la biopsia renale più anticorpi antiana già possiamo fare una diagnosi di lupus quindi la diagnosi si basa sulla biopsia renale e come sappiamo esistono sei classi istologiche della nefrite lupica che sono riportati qua in questa slide e questa classificazione è importante perché ogni classe merita un trattamento specifico della malattia di cui vi parlerò un po' più davanti e qua in questa slide potete vedere una panoramica sugli studi effettuati per il trattamento dell'ES perché ricordiamoci che è una malattia che colpisce pazienti che sono tendenzialmente pazienti giovani più donne che gli uomini anche se gli uomini poi hanno un coinvolgimento molto più aggressivo della malattia anche renale molto più aggressivo e bisogna fare dei trattamenti mirati a lungo termine e tra i diversi farmaci che sono stati approvati ultime diciamo due farmaci approvati sono stati il Belimumab che è stato studiato per il coinvolgimento più extra-renale e l'avoclosporina che è proprio stata studiata per la nefrite lupica e vista l'efficacia di questi farmaci qua poi sono stati aggiornati le linee guide di EULAR ad ottobre di 2023 che hanno parlato di una multi-target therapy per la nefrite lupica mirata per ogni paziente e un altro messaggio importante di EULAR 23 è stato l'introduzione di steroid sparing therapy dove il nostro target è arrivare o alla sospensione totale della terapia steroidea o almeno arrivare al dosaggio di 2.5 mg che è un dosaggio veramente basso e quindi alla luce di questi aggiornamenti poi sono stati aggiornati anche che dico a gennaio del 2024 e qua noi vediamo come cambia diciamo la terapia alla luce della classe istologica della nefrite lupica nella classe prima e seconda noi semplicemente facciamo una terapia di supporto o semplicemente guardiamo e monitoriamo il quadro renale e vediamo delle alterazioni che ci sono e in caso in cui la proteinuria entra nel range nefrosico somministriamo la terapia immunosuppressiva o in alternativa facciamo questa terapia se c'è un colloggimento extrarenale della malattia le classi che ci interessano di più per il discorso di oggi sono la classe terza e quarta che sono le classe proliferative con una prognosi peggiore in o senza associazione della classe quinta e qua la terapia qual è? noi facciamo una terapia con glucocortico-stiroidi in associazione a queste quattro diciamo opzioni che sono diciamo come efficacia considerati più o meno uguali fra di ora o facciamo glucocortico-stiroide più il micofenolato o a basse dosi di ciclofosfamide di solito si fanno dei boli da 500 mg o il micofenolato in associazione a Belimumab o micofenolato più inibitori delle calcine urine qua è stato riportato per la prima volta alla glucosforina e nella classe quinta appunto noi vediamo se che è una classe membranosa noi vediamo se la proteinuria entra in range nefrosico o no perché se è in range nefrosico a questo punto noi trattiamo con la terapia con il micofenolato o sempre con inibitori dei calcine urine come una delle opzioni o se è inferiore a 3.5 grammi litro a questo punto facciamo il doppio blocco e poi monitoriamo la terapia e la classe sesta che qua non è stata riportata e già perché è una malattia ormai sclerotica diciamo qua non c'è niente da trattare bisogna un attimo fare una terapia di supporto qualche volta fare una terapia anzi predialitica puoi pensare alla terapia renale sostitutiva e quindi parliamo dell'oposporina che è una nuova molecola che appartiene dalle classe di inibitori delle calcine urine che è 4 volte più potente rispetto alla ciclosporina che ha una farmacocinetica molto molto stabile quindi non c'è bisogno di monitorarlo nel sangue che è una cosa molto comoda per noi medici e diciamo che non interagisce con il micofenolato e anche dal punto di vista metabolico compreso l'intolleranza glucidica o lipidica è tollerata molto molto bene ed è anche considerata molto meno nefrotossica rispetto agli altri farmaci che appartengono da questa classe e l'approvazione della glucosporina che possa essere utilizzata appunto per la nefrite lupica è stata fatta alla luce dello trial che si chiama Aurora e poi a seguire Aurora 2 che è continuazione di quella trial Aurora 1 e Aurora 2 sono entrambi i trials che sono doppio cieco randomizzati multicentrici con più di 23 paesi coinvolti placebo controllati quindi avevano due bracci placebo versus farmaco della fase 3 prima di partire con Aurora 2 bisogna fare un breve recap di Aurora 1 quali sono stati gli endpoints dello studio prima bisognava vedere se effettivamente il farmaco era efficace o no e l'efficacia era riportata come una risposta renale completa al farmaco a 52esima settimana e veniva valutata come riduzione di rapporto fra proteine e creatinina inferiore a 0.5 il mantenimento di IGFR stabile da baseline e non avere una necessità di fare una breastfeed therapy che è praticamente un potenziamento della terapia steroidea e poi bisognava vedere safety del farmaco e come gli endpoints secondari erano tutti gli endpoints primari a 24esima settimana e in più volevano vedere una risposta parziale del farmaco che sarebbe una riduzione di UPCR a 50% oppure vedere una risposta immunologica e vedere come andava il complemento o gli altri anticorpi che vengono sempre monitorati nella nefrite lupica come criterio di inclusione sono stati inclusi i pazienti adulti con una nefrite lupica attiva o di classe terza e quarta in associazione o senza classe quinta che avevano UPCR superiore a 1.5 al momento di screening stessa cosa per classe quinta con UPCR superiore a 2 e la biopsia doveva essere seguita negli ultimi sei mesi dall'inizio del trattamento oppure la biopsia renale negli ultimi due anni con il peggioramento importante di UPCR e come criterio di inclusione hanno escluso tutti i pazienti con il filtrato inferiore a 45 i pazienti trapiantati i pazienti con una infezione virale o altri tipi di infezioni croniche in corso o le persone con delle comorbidità importanti come BPCR o altre malattie autoimmuni i pazienti poi sono stati divisi in due bracci quello di farmaco e quello placebo il dosaggio di farmaco impostato era 23.7 mg due volte al giorno che corrisponde a tre farmaci quindi sei farmaci in totale al giorno in associazione al micofenolato 1 g per 2 e steroidi che venivano scalati in una maniera rapida bisognava arrivare a un dosaggio di 2.5 mg a sedicesima settimana e poi il dosaggio della voplosporina veniva sempre aggiustato alla base dell'IGFR che veniva monitorato ogni settimana quindi se si vedeva una riduzione dai 20 ai 30% si scalava il farmaco da 3 compresse per 2 a 2 compresse per 2 o una per 2 e se il filtrato scendeva superiore al 30% a questo punto il farmaco veniva sospeso per una settimana e poi piano piano si introduceva di nuovo come i risultati lo studio ha aggiunto tutti gli end point primari ma anche secondari quindi è stato evidenziato il fatto che la voplosporina era efficace rispetto al placebo per ottenere una risposta renale completa ma anche parziale con la riduzione significativa di proteinuria e come gli eventi avversi fra i gruppi non c'erano grosse differenze quindi il farmaco poi è stato considerato safe per il trattamento anche perché gli eventi erano molto sovrapponibili fra di loro ma anche come il percentuale della loro accorrenza ma anche tipo come diciamo erano più o meno sovrapponibili fra i gruppi che diciamo l'evento avverso molto cioè la più frequente quello che abbiamo visto era erano di infezioni respiratori o i disturbi gastroenterici e quindi visto che il trial ha avuto un grande successo hanno deciso di vedere quali erano gli effetti di questo farmaco a lungo termine quindi hanno continuato lo studio per vedere il safety a distanza di due anni dall'inizio di Aurora 1 quindi valutare tre anni della terapia con la vocosporina e come gli end point semplicemente li hanno invertiti come end point primario qua avevano visto dovevano valutare il safety e anche la tollerabilità del farmaco e come gli end point secondari vedere se si confermava l'efficacia di farmaco nel trial sono entrati nell'Aurora 2 216 pazienti perché tanti non hanno voluto semplicemente continuare il trattamento nessuno di Aurora 1 ha iniziato il trattamento sostitutivo e alla fine sono stati valutati sono stati inclusi inizialmente 116 pazienti in gruppo voclo e 100 pazienti in gruppo di controllo e cosa hanno visto? hanno visto che in questi due anni di follow up comunque attivo mensile non c'erano lì eventi avversi di nuova insorgenza e gli eventi avversi comunque erano molto diminuiti rispetto al primo anno la cosa nuova che purtroppo è stata riscontrata durante diciamo questo trial era l'infezione da SARS-CoV-2 quindi era diciamo un evento avverso nuovo perché prima ovviamente il Covid non c'era però comunque i pazienti non hanno avuto nessuna necessità soprattutto nel gruppo della voclosporina avere diciamo un trattamento mirato al Covid oppure essere ricoverati in una reanimazione e alla fine solo il 27% del gruppo voclosporina aveva bisogno di aggiustare la dose per IGFR solo 1% quindi due casi in totale hanno aggiustato una dose per l'ipertensione lì era definita come pressione arteriosa superiore a 165 su 90 e gli altri riducevano i farmaci per gli altri motivi veramente molto particolari comunque qua vediamo che gli eventi avversi sono stati divisi in due diciamo tabelle che tutti sono riportati qua che sono divisi in eventi avversi e eventi avversi severi e come vediamo il farmaco al secondo e terzo anno di follow up attivo non aveva quasi nessun tipo di evento avverso severo che è una cosa molto molto positiva per un farmaco nuovo e come gli eventi avversi riportati in gruppo di Aurora 2 vediamo come vengono diminuiti con tempo quindi a lungo termine questo farmaco era molto molto ben tollerato e come gli eventi in secondari si è riconfermata la riduzione della proteinuria e nello studio e in più IGFR si è mantenuta stabile quindi diciamo che l'Aurora 2 ci è confermato che la vocosporina è un farmaco sicuro e deficiente per essere utilizzato nei pazienti affetti da una mefrite lupica e qua vi volevo raccontare un po' la nostra esperienza personale con l'utilizzo della vocosporina perché abbiamo due pazienti attualmente che lo stanno facendo e vi racconto il primo caso che è una signora di 35 anni con esordio di lupus in età pediatrica che era un lupus prevalentemente con coinvolgimento articolare con delle lesioni cutanee importante ed una epatite autoimmune poi lei ad un certo punto della sua vita ha sviluppato una proteinuria non nefrosica di due grammi su cui veniva fatta la biopsia con la nefretilupica di classe seconda in associazione con quarta veniva trattata con simboli di ciclofosfamide e come il mantenimento a lei è stata introdotta una terapia con il micofenolato e con dei steroidi e nel 2013 poi le hanno sospeso il micofenolato hanno introdotto il metotrexate poi sinceramente lei ha cambiato tantissimi centri e tantissime città d'Italia e quindi a lei la terapia veniva sempre riaggiustata e quindi aveva tantissimi problemi nel senso che a lei non riusciva a tollerare bene il dosaggio pieno di micofenolato e quindi faceva un dosaggio veramente aumentato della terapia steroidea nel 2016 ha avuto di nuovo flerrenale di nuovo ribi più absiata classe terza più quarta appunto è riuscito a fare il micofenolato al dosaggio di un grammo giorno che per lei era un dosaggio veramente basso più steroidi più app poi ha iniziato bellista poi aveva una sospetta intolleranza bellista sospetta di lì che sarebbe una drug induced liver injury e quindi alla fine aveva veramente dei grandi problemi con il management della malattia nel luglio 2023 lei giunge presso il nostro ambulatorio con una proteinuria in range nefrosico con i valori intorno a 4 grammi nelle 24 ore su cui noi decidiamo di rifare una biopsia anche perché sappiamo che i classi istologici nella nefrite lupica possono essere cambiate e quindi bisogna sempre aggiustare la terapia e qua la terza biopsia lei aveva una classe seconda più quinta le abbiamo iniziato i voli di metinoprenisolone e poi siamo passati a predigione a 25 grammi e abbiamo iniziato la terapia di nuovo perché era sospesa il micofenolato prima a un grammo abbiamo provato inizialmente a fare una terapia con il micofenolato a due grammi però lei non è riuscita a tollerarlo aveva grossi disturbi gastroenterici si sentiva male poi anche gli esami sono peggiorati aveva una leucopenia abbastanza importante e quindi ad agosto visto che la vocosporina poi è stata veramente per la prima volta disponibile per la prescrizione abbiamo deciso di iniziare il trattamento con la vocosporina appunto tre compresse due volte al giorno con un dosaggio fisso lungo che esiste a 7.9 miligrammi con prednisone 20 miligrammi e poi con micofenolato da un grammo e qua potete vedere che ad agosto lei aveva un valore di creatinia intorno al 08 con proteinuria di 2.22 dopo i voli dopo comunque aver iniziato il trattamento e poi su questo valore qua noi abbiamo introdotto la vocosporina e come potete vedere abbiamo avuto una riduzione molto molto importante della proteinuria e la creatinina era lievemente salita però comunque è nel range della normalità e abbiamo la seconda signora sempre giovane 26 anni con una diagnosi di lupus fatta nel 2015 che è esordita con le antralogie diffuse lesioni cutanee e l'eucopenia severa è stata trattata con steroidi più plachium e più metotrexate e poi a maggio 2022 aveva un peggioramento diciamo della proteinuria camparse di proteinuria è stata fatta una biopsia in Albania che confermava il quadro istologico compatibile con la nefretelupica di classe quinta è stata trattata lì con plachium azatioprina 50 milligrammi più medrol e lei poi si è autogestita un po' la terapia nel senso che ha sospeso l'azatioprina e poi aveva aumentato ma prendeva dei dosaggi veramente molto molto alti del cortisone e come complicanza lei aveva sviluppato una necrosi a vascolare della testa di femore ma anche delle ginocchia e quindi lei è stata poi trattata con erixia e nel giugno 2023 lei aveva una flera di malattia con delle alcalogie lesioni cutanie proteinuria intorno a due rammi nelle 24 ore lei è stata impostata la terapia con metotrixate belimumac e prednisone che lei appunto continuava ad autogestire perché lei abitava fra Albania e Italia in quel periodo lì perché non era ancora non si era ancora trasferita definitivamente in Italia e quindi lei ad agosto 2023 ho visto che anche l'altra paziente se ho letto bene hanno iniziato entrambe il belimumab prima di arrivare in realtà poi vi volevo dire che entrambi poi l'hanno sospeso ad un certo punto la prima paziente l'aveva sospeso nel 2020 cioè perché poi aveva diciamo sospeso cioè aveva in sospeso questa drug induced liver injury che in realtà poi non si è mai stato confermato però poi lì appunto ha cambiato il centro e l'altro centro non le ha introdotto la benedista quindi non lo prendeva e per quanto riguarda il secondo caso anche lei non lo prendeva poi alla fine è stato introdotto e poi vediamo qua è stato introdotto a giugno 2023 e poi lei ad agosto 2023 viene ricoverata e poi quando abbiamo un po' ricostruito l'anamnesi in realtà lei ci ha detto che non prendeva benedista però lei è stata ricoverata non da noi perché aveva un coinvolgimento extrarenale della malattia le altrologie e i disturbi gastrointestinali e come screening a lei proprio all'inizio del ricovero proprio i primi giorni hanno fatto l'ecocardio ma anche l'equadome come si fa di solito quando i pazienti vengono ricoverati e a lei hanno riscontrato una insufficienza mitralica molto molto severa necessitante un intervento chirurgico quasi immediato quindi alla fine non è stata reintrodotta benedista in quel momento lì perché bisognava gestire il il quadro appunto di insufficienza mitralica severa poi lei è stata ricoverata per altro mese in cardio chirurgia inizio cardioremazione poi cardiochirurgia e poi a settembre ci hanno chiamato perché lei aveva una proteinuria di 7 anni nelle 24 ore senza avere una sindrome nefrosica cioè i trigliceri di rest erano negativo lei non aveva mai dei medici oltre sintomatologia della sindrome nefrosica e considerando il fatto che lei prima cosa non tollerava il micofenolato a un dosaggio superiore a un grammo e un'altra cosa che noi a lei non volevamo dare un volevamo scalare il più presto possibile la terapia con il prednisone considerando la sua storia pregressa e in realtà tu mi potresti chiedere perché non è stata biopsiata giusto su 7 grammi di proteinuria in realtà lei non ha voluto fare una biopsia perché era ricoverata quasi da due mesi aveva uno stato psicologico veramente molto molto complesso aveva paura di fare un'altra procedura anche se non era invasiva come procedura però comunque non ha voluto fare una biopsia qua da noi in Italia e poi lei dopo la dimissione adesso è seguita sia dagli immunologi da noi ma anche noi la vediamo visto che comunque ha avuto questa proteinuria importante e anche lei ha risposto quasi subito all'avoculo con una riduzione significativa della proteinuria e anche lei in realtà la creatinina viaggia fra 07 e 09 nel suo caso che è sempre diciamo nel range di normalità con tendenza cioè con la tendenza di salire e quindi erano questi due casi che abbiamo adesso attualmente in ambulatore di autoimmunità da noi al policlinico e quindi così volevo semplicemente dire che la voclosporina potrebbe essere un farmaco valido che possa essere utilizzato nei pazienti con la nefrite lupica attiva e poi bisogna appunto vedere real life experience e vedere come sta andando con questi pazienti e comunque dimenticate di dire prima che entrambe le signore hanno tollerato molto bene la voclosporina e non hanno avuto delle complicanze diciamo che non hanno avuto disturbi gastroenterici piuttosto che quindi stanno prendendo la terapia senza nessun problema attualmente e quindi grazie mille per il torno al gabbi oggi e spero che sia stata utile fare diciamo un ripasso appunto sopra ora due e poi vedere com'è che diciamo funziona esatto il farmaco nel real life experience infatti grazie mille Anna in particolar modo per il per il contributo pratico che ci hai dato insomma vedere come funzionano questi farmaci nella pratica clinica è molto importante e partendo da questo io ti rifilo subito un paio di domande allora no la prima è questa ignoranza mia io non so se è già stato definito una durata del trattamento con voclos in realtà c'è la c'è un po' di discussione su questa cosa dicono che deve essere prescritto almeno per tre anni e poi bisogna vedere un attimo se si può fare uno scalaggio di della vocosporina nel senso che hanno detto che possa essere utilizzato per tre anni però bisogna un attimo capire se e soprattutto con quale tempistiche possa essere poi scalato o se può essere sospeso nei pazienti con una remissione completa della macchia infatti questo è il motivo per cui comunque lo studio Aurora è durato due anni immagino per raggiungere comunque tre anni totali questa evidenza si otteneva e l'altra cosa che ti chiedo sempre a proposito del trattamento e del trial partendo dal concetto dei trattamenti standard che c'erano per la nefrite lupica e che ci sono so che il tema dell'osteroide in realtà non solo nella nefrite lupica ma anche in altri penso la vascolite ad esempio il tema dell'osteroide quanto darne come induzione e quanto tenerne poi per il mantenimento era un tema già dibattuto e vedo che nel trial Aurora comunque nel gruppo di controllo dove appunto non avevano la volcosporina ma un placebo comunque di fatto associavano un placebo a micofenolato e a un'osteroide che però di per sé era un dosaggio più basso rispetto al trattamento standard quindi da esterno cioè da uno che non ne mastica tanto di nefrite lupica mi viene da pensare che il gruppo di controllo ha ricevuto una terapia immunosoppressiva effettivamente un po' bassina no? Sì anche io ho pensato questa cosa appunto quando leggevo l'articolo perché di solito lo scalaggio della terapia steroidea nella nefrite lupica non è così veloce diciamo e soprattutto secondo me nei real life experience appunto tendono a scalare molto più lentamente il cortisone per non avere una flare della malattia e quindi appunto possa essere una limitazione dello studio anche se in realtà poi anche nelle linee guide che vediamo qua un attimo che arrivo e sì di solito queste classe proliferative appunto membranosa vengono trattati con glucocortico steroidi in associazione anche con il micofenolato appunto però in questo caso lo steroide viene scalato più cautamente intensi sì sì quindi possa essere una limitazione molto valida ok grazie qualcuno dal pubblico ha qualche osservazione qualche domanda ciao Anna scusami io avevo una curiosità magari me la sono persa quando spiegavi lo studio per tutti e due gli anni praticamente per cui ho continuato l'osservazione dei pazienti oltre alla botlosporina loro hanno continuato a prendere due grammi di micofenolato e due virgola cinque di steroide sì sì hanno hanno proprio continuato lo stesso dosaggio di micofenolato non è stato ridotto ulteriormente hanno continuato proprio così e anche lo steroide non è stato sospeso no non è stato sospeso è stato mantenuto a 2.5 milligrammi sì 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 ok grazie dai Manuel c'è anche la telecamera non puoi non intervenire scusa ah c'è anche Manuel non ti va il microfono dai non vale ok no parlando al discorso del cortisone io ripeto non non ho visto da vicino la nefrite lupica ma in generale di 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 queste questioni immunologiche non non mi ritengo troppo esperto però ecco sul fatto dell'osteroide c'è una cosa che comunque fa riflettere secondo me cioè noi abbiamo un gruppo un gruppo di controllo che comunque non se l'è cavata così male sì esatto hanno avuto un diciamo uno scalaggio molto molto rapido poi mi può confermare anche la Giulia che ha seguito l'ambulatore dei lupici per un sacco di tempo che sta facendo anche l'ambulatore di glomerulone fritti adesso a San Paolo che da noi lo steroide viene scalato molto molto più lentamente rispetto a un punto studio che è stato condotto ok ma tu cosa ne pensi Giulia cioè faresti mai quei boli così timidi di steroide va bene se non sbaglio era 500 cosa facevano 500 o 500 o 250 per due ma secondo me una cosa fondamentale da considerare rimane comunque il quadro istologico nel decidere sia l'intensità della terapia seridea sia l'intensità della terapia immunosoppressiva da associare ora nel caso dei pazienti intrusi in questo studio avevano tutti più di 45 di filtrato adesso non so quanto fosse la proteinuria media all'inizio non me lo ricordo al basale però comunque non c'erano quadri di insufficienza renale acuta rapidamente progressiva o comunque quadri dravidi nefrite lupica su cui forse bisogna pensare a una terapia diversa rispetto a quella che è stata fatta in questo trial secondo me però in quei pazienti con una malattia caratterizzata prevalentemente da una proteinuria secondo me cioè la botolosporina così come gli inibitori della calcineurina in generale possono essere una terapia alternativa valida anche perché se non ricordo male nell'Avrora 1 quando andavi a spacchettare tutti i vari pezzi dell'endpoint primario l'unico che era veramente significativo era proprio la riduzione della proteinuria il primario era la risposta renale completa ma di fatto spacchettando tutte le varie voci della risposta renale completa l'unica voce che era poi realmente diversa tra i due gruppi era quella della proteinuria cioè sul sul GFR non cambiava molto e anche a livello immunologico sui livelli di complemento sui livelli di anticorpi sull'attività immunologica cambiava praticamente nulla quindi secondo me dobbiamo considerare il fatto che la botolosporina così come gli inibitori delle calcine urine forse all'interno dell'anifrite lupica agiscono più con un meccanismo non tanto immunosoppressivo quanto con un meccanismo di stabilizzazione del podocita per cui è questo il vero meccanismo che ti fa ridurre la proteinuria non tanto l'immunosoppressione di perfetto per cui va benissimo se un paziente ha una sindrome nefrosica noi vogliamo ridurre la proteinuria in fretta va benissimo se il paziente non può permettersi magari una terapia completa come alte dosi di micofenolato alte dosi di steroide se abbiamo qualche interesse per ridurre le dosi di steroide o di micofenolato però non è secondo me non agisce propriamente come un immunosoppressore a giudicare i risultati dell'aurora 1 sì anche noi abbiamo utilizzato appunto la vocosporina per questo scopo per ridurre nei tempi abbastanza rapidi la proteinuria cioè proprio come antiproteinurico e anche diciamo nei pazienti che in cui anche volevamo rapidamente scalare anche il prednisone cioè lo scopo era quello no ma infatti due casi che hai presentato per motivi diversi secondo me avevano tutte le ragioni di fare una dose più bassa di cortisone o di micofenolato e di associare qualcos'altro quindi erano assolutamente due casi emblematici in cui era un'alternativa valida ecco associare la la botulosporina non è una terapia che intraprenderei in un paziente che si presenta con un'esufficienza renala acuta ecco sì sì perché lì bisogna proprio agire in un modo molto più severo diciamo così ok quindi se dovessimo ragionare su quando iniziare a priori una terapia già con la boclosporina il vostro punto di vista è se c'è una componente infiammatoria almeno moderata severa terrestre insomma gli schemi gli schemi tradizionali mentre se è una una questione più proteinurica quindi parliamo di di una forma di una forma quinta cioè di una classe quinta ok secondo me è preferito nelle quinte o nelle miste io credo che in entrambi anche nelle miste nelle miste che non abbiano un indice di attività una penetrazione estera capillare mostruosa la biossia renale ecco sì ad esempio noi abbiamo utilizzato appunto la bocosporina nelle classe quinta cioè della nefrite lupica quindi lo scopo era quello si ridurre nei tempi più rapidi possibili la proteinuria che di solito le quinte si presentano anche con una funzione renale normale quindi ti danno spazio di mettere il nevitore della calcineurina e ti danno anche un po' più di tempo per poter agire rispetto magari a chi si presenta con un'insufficienza renale acuta o avere proprio sindrome nefridica o addirittura una rapidamente progressiva sì anche perché tipo nei nostri casi il valore della creatinina era intorno a 0,5 0,7 nei trambi casi quindi non avevamo paura di appunto introdurre il nevitore di calcineurina che sappiamo tutti che sono a parte che sono un po' nefrotossici che ad esempio nella vocosporina poi la cosa che viene detta che sono molto meno nefrotossico ad esempio rispetto al tacrolimus però comunque possono dare un danno renale quindi nei pazienti con una diciamo con una funzione renale in peggioramento non vai a dare un farmaco che ti può contribuire a ulteriore peggioramento ok va bene ci sono altre domande da casa guardi in chat ha scritto il prof prima ok va bene beh direi se non se non abbiamo altri altri interventi possiamo chiudere qui la la riunione di oggi e grazie mille Anna tra l'altro vi ricordo che a breve caricheremo anche la biopsy conference che abbiamo tenuto settimana scorsa proprio sulla nefrite lupica per cui se volete andarvi rivedere un po' le questioni più istopatologiche le potrete vedere da lì la caricheremo su youtube e comunque sui social come al solito grazie a voi grazie per questa discussione e ci vediamo nel prossimo Journal Club ciao grazie ciao grazie grazie a tutti ciao a tutti ciao grazie ciao grazie